Fiat Fremont Fiat Fremont Fremont Fiat 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 Fremont La vettura non era in grado di raggiungere neanche i 9 km per ogni singolo litro e si rivelava ben poco propizia per viaggi di lunga entità. Gli allestimenti proposti per la Fiat Fremont La Fiat Fremont era disponibile in 5 allestimenti differenti, ognuno dei quali poteva garantirvi una serie di accessori di serie, in grado di renderla molto interessante. Ecco le caratteristiche delle varie proposte della vettura italiana. Base era la versione entry level e vi offriva il climatizzatore automatico, i 7 posti standard, il computer con bussola, il sistema Cruise Control, lo schermo da 4,3 pollici touchscreen con comandi al volante, i cerchi in lega da 17 pollici e il sistema di sicurezza ESP. Urban vi faceva già salire di livello in maniera notevole. Tutto ciò grazie all'installazione del sedile regolabile tramite una modalità elettrica, ai sensori di parcheggio posteriori, alla chance di attivare la trazione integrale, al Bluetooth, agli specchietti repegabili con un marchigegno elettrico, al volante e al cambio in pelle e all'accensione automatica dei fari. Lounge vi proponeva ulteriori accessori di qualità, tra i quali spiccavano i cerchi in lega da 19 pollici, il navigatore satellitare, touchscreen da ben 8,4 pollici con lettore DVD, i sedili in pelle, i 6 speaker che formavano un avveniristico impianto audio e il sensore per il parcheggio posteriore. Black Code era ancora più interessante sotto diversi punti di vista. Dalla vernice metallizzata ai cerchi in lega neri lucidi da 19 pollici, senza dimenticare calotte, specchietti retrovisori, griglie e calandre anteriori anch'essi in nero lucido, c'era davvero tanto di cui restare stupidi. Cross era la variante perfetta se volevate vivere fino in fondo l'esperienza da fuoristrada. In tal caso, potevate usufruire di un navigatore Uconnect da 8,4 pollici, di sedili in pelle nera, di finiture interne dal color graffite, di cerchi in lega a 5 razze e sempre da 19 pollici e di cornici neri in corrispondenza dei gruppi ottici sia anteriori sia posteriori. Il prezzo di listino delle versioni della Fiat Fremont Attualmente, se avete intenzione di acquistare una Fiat Fremont, sappiate che potete farlo senza dover spendere una cifra eccessiva. Il mercato dell'usato mette a vostra disposizione una lunga serie di opportunità di alto livello a prezzi molto competitivi, che sicuramente sono in grado di suscitare la vostra attenzione e sollecitare le vostre tasche. Potete ad esempio acquistare un modello del 2013 a circa 10.000 euro, con motore diesel da 2,0 litri e 170 cavalli di potenza. Se volete salire di livello, potete puntare su una versione del 2016, anno di uscita di produzione, con un prezzo che parte da 13.950 euro. Ad ogni modo, avete diverse opportunità interessanti tra le quali scegliere in perfetta libertà, usufruendo comunque di una vettura. Di sicuro affidamento per tutte le condizioni per le quali potete adoperarla. Scopri le Fiat Fremont usate disponibili sul nostro sito.